Ehm... Prima del concerto Ehm... Eh, durante prima del concerto Questo è il momento Forse uno dei più importanti della mia vita Le mie emozioni sono... Non sono paragonabili a niente Credo... Credo che Questo sarà uno dei momenti più erbici Passo da Paola Salvatore Il batterista Qua c'è il microfono, ok Questo è un momento storico perchè inizia Uno dei primi concertini Dei Pozzi, dove vai? Scappa Uno dei primi concertini dei Pozzi Io non guardo la telecamera perchè sono pro Guardo il quadro Fuck around the pussy Eh... Allora... Ehm... Buonasera a tutti Buonasera a tutti Allora io penso che... Questo per essere il nostro primo... Penso... Io ritengo che per essere il nostro primo concerto questo... E' un po' di gentaglia Poi farò... No dai verrà una cosa bella... Bella, genuina ma soprattutto... Ignorante e fiera... Quello che dico sempre io di queste canzoni Sbaglieremo tanto... Sbaglieremo tanto... Sbaglieremo tanto... Oh... Il bello della diretta ragazzi... E' il bello della diretta Vai Fra... Perciò la rimaniamo nel video... Ma la rimango nel video... Ma la... Ma la riman... Ma la rimaniamo nel video... Perchè è il bello della diretta... Un terricio... Vuli... E' un terricio... Ma la rimango nel video... C'è... Dario il chitarrista... Ehm... Sono in tensione... Ehm... Non so che altro dire... Perciò... Andiamo nella sala concerto... Tra parentesi... Il Bataclan... Siamo entrando nel Bataclan... In una sala concerto... Ecco qui la gente... Facciamo un vlog generale... Della gente qui... Là c'è la mia postazione... La possiamo vedere in quadra... Qua c'è la postazione di lui... Che sta parlando... Lì c'è la postazione di un chitarrista finto... Ma in realtà lui non starà lì... E lì c'è il basso... La chitarrella... Vieni... La chitarrella qua... Di lui... Lui saluta in camera come un bel... Perfetto... Ehm... Niente... Possiamo fare una desk... Un bel... Un bel... Diciamo... Una vista... Un orologio... Abbiamo... Possiamo vedere... Altri... Violini... Attenzione... Non può stare... Gente... Gente... Giunta... Poi... Filma... Ci vediamo... Dobbiamo... Oh... Non lo vedo io... Sì, lo sono letto, ma non fa niente, scroglialo, scroglialo. Benvenuti a questo cazzo giardino, che abbiamo dovuto fare, perché ce l'ho. Quindi benvenuti a tutti. Siamo a fare l'inglese, sì, siamo a fare l'inglese, anche per l'alato. Prima porta, adesso, insomma. Abbiamo, vorrei presentarvi tutti i componenti di questa bella. Abbiamo il signor Totò Gentile a batteria. Un bel applauso, signori. Sì, sì, sì. È un bel applauso, non è incredibile. Ricordi, è spiegherino. È un bel applauso. È un bel applauso, non è incredibile. Grazie per la visione! 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 Noi ce l'abbiamo fatta perché abbiamo fatto bene, capito? Dicono sempre fare bene! Ora intervistiamo il pubblico! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!